L'imperativo è fare presto perché se entro il 15 luglio non si sblocca l'Empass facendo nascere la cabina di regia per il turismo, la marca rischia di perdere finanziamenti europei per la cifra mirabolante di 40 milioni di euro. Noi siamo molto preoccupati, siamo qua a denunciare oggi una classe politica che ci sta danneggiando in modo importante. Tutti litigano, l'assessore regionale Canera accusa di ritardi il comune di Treviso, dall'amministrazione Manildo e l'assessore Camolei a replicare il problema e il regolamento di questa cabina di regia unica e così scatena le ire della provincia identificata alla guida dell'organismo, cosa che probabilmente non piace a Casugana che conta di presiedere un comparto fondamentale per l'area metropolitana futura. La regia del turismo della nostra provincia va a decadere e a oggi, a 15 giorni poco più della scadenza, non è ancora rinnovata. Non è ancora rinnovata perché la parte politica, cioè il 50%, non riesce a mettersi d'accordo, non riesce a mettersi d'accordo se i membri del direttivo devono essere di centro-sinistra o della Lega. Chi viene danneggiato da tutto ciò qua siamo noi albergatori, noi che siamo quelli che dovremmo aspettare i fondi che arrivano dall'Europa.